È arrivato poco prima delle 12 il neoprefetto di Napoli Michele Di Bari, il giorno è quello dell'insediamento. Di Bari ha tenuto la sua prima conferenza stampa alla guida della prefettura del capoluogo campano. 64 anni, originario di mattinata nel Gargano in provincia di Foggia, proviene dall'incarico di nove mesi come prefetto di Venezia. Tanti temi trattati nell'incontro con la stampa, non sono mancati i complimenti al lavoro svolto dal suo predecessore Claudio Palomba. Continuare su quanto fatto è fondamentale. Con Palomba ci siamo sentiti in diverse occasioni, dice il neoprefetto in conferenza. Di Bari, che in mattinata ha ricevuto anche l'augurio di un proficuo lavoro dal primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, definisce la città con l'aggettivo resiliente, un popolo capace di trovare sempre l'animo giusto per rialzarsi nei momenti difficili. Sicurezza, contrasto al disagio, tra i punti fondamentali su cui lavorare sulla scia degli ultimi tempi. Poi un pensiero ai giovani, un prefetto deve pensare anche alle nuove generazioni. Ecco le parole del neoprefetto di Napoli. Sono convinto che questa città, che già sta facendo tanti progressi, ha bisogno spesso di essere accompagnata anche attraverso le forze di polizia, che ringrazio per quello che stanno facendo, le municipalità, la regione campania. Ecco, la priorità non è una sola, è un atteggiamento di accompagnamento e di azione che bisogna fare perché i territori, la comunità possano sempre crescere. Le urgenze credo che siano tante. Oggi al primo giorno posso dire che più dossier sono alla mia attenzione e a breve addetteremo degli atti.